Signore e signori buonasera, ricordandovi il basso livello della televisione, mi corrego, ricordandovi di tenere basso il livello della televisione, il livello del volume della televisione di Paoli Mogol il cielo in una stanza canta Luciana Turina. Di Paoli Mogol il cielo in una stanza canta Luciana Turina. Abbiamo trasmesso il portiere di Aperto per Ferie. Potete sintonizzarvi a questo punto su Rai 1, Rai 3 oppure Stendiamo un velo pietoso. Ma noi vi consigliamo di seguire Giovanni Battista Bartesaghi e i suoi reportage. Sigla di Bartesaghi, sigla di Bartesaghi, prego. Era il comandante Cerati. Buonasera a tutti, siamo quasi alla fine dell'estate però fa ancora un caldo, una in questi casi non sa mai che mettersi, il pullover fa troppo caldo, la camicetta fa troppo fresco. Comunque sbrighiamoci per una montagna di roba da stirare. Allora, vogliate ora gustare le facce dell'erotismo. Cosa avrà Mirabella in testa? Vai a capire. Ci comunicano che il professor Puddu ieri sera ha cambiato canale due volte. Si fa? No, dico si fa? Adesso per esempio si perderebbe il reportage di Giovanni Battista Bartesaghi. Conduce in studio Michele Mirabella, perché un esibizionista. C'è un annuncio a TG che ci deve dare delle notizie. Ricordandovi A. Che il numero di telefono di aperto per ferie è 8277003 B. Che potete lasciare i messaggi sulla segreteria telefonica C. Che Mirabella fa tardi tutte le sere con le ragazze D. Che Luca Damiani va sempre in bianco Vi invitiamo a seguire gli itinerari di Gianni Iciardo Piove dal soffitto in salotto Sì Anche in camera mia piove sui tamerici In salotto è grave Oltretutto sta usando il secchiello d'argento Dello champagne Non è bello Si deve essere già bevuta tutto lo champagne perché la vedo un pochino indecisa nella mossa Io non sono convinto che si possa fare una trasmissione in queste condizioni Bisogna avvisare il portiere perché la prossima riunione di condominio Secondo me questo problema va a fronte Il lastrico Che è successo? Di, qual è il problema? Ok Faccio io Cosa? Pronti? Da 822 Non fagli un indietro 8277003 È il numero della segreteria telefonica di Aperto per Ferie Se siamo momentaneamente assenti Vi preghiamo di lasciare un messaggio registrato Avete 30 secondi per parlare dopo il segnale acustico Signorina ma lei sta con le cioce Signorina Io non vorrei insistere Ma lei sta con le cioce Scusi Ma non si vede Ma non è bello Comunque capisco che è bagnato per terra che piove Mi annunci in questo modo Senta bagnato e cioce Fa schifo Diciamolo francamente Anche No no non si offenda adesso Non è una questione di fondo Addio Ci siamo giocati anche la collaborazione Vabbè Vola 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 Non si preoccupi Non si fermi di fronte a nulla Vola 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 È il brano che Michele Mirabella dedica a Ivo Garani Il papà di Tori Questa è una novità È una sorpresa È una sorpresa Grazie Abbiamo Ciao sono Tatiana Siamo tutti bravissimi ma in particolare l'annunciatrice bravissima Ciao Abbiamo trasmesso il comandante Cerasa E' un'emozionata era Per la serie dalla padella nella braccia Vogliate ora seguire Gianni Ciardo Signorina Buonasera 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 Ormai tutti in famiglia Dica Buonasera Termina qui il commento alle Termina qui il commento ai fatti del giorno Cambiare canale durante la penultima puntata sarebbe una vergogna Avete fatto 30 fate 31 Piuttosto seguite lo Sostelidos con il brano Cazzo e Nuga Sì Ma adesso così male Sì Come si? Mirabella si è montato la testa in un mare Ah ma sempre io Questa era l'opinione del pubblico Vi invitiamo ora a seguire il brano Senza di te Interpretato da Luciana Turina e di Vipo